Protezione civile con questa mascherina qua, l'avevo già detto, l'avevo già detto, ci ha dato le orecchie da coniglio e non le dico dove ci ha dato la carota, capolavoro, applausi, grida, rose sul palcoscenico, pubblico in delirio, la stampa, la repubblica, il fatto il foglio il mattino di Napoli, ultime notizie, il corriere della sera così De Luca diventa social e batte Trump. Mamma mia, De Luca, per favore, abbiamo capito che è entrato in questa... Mi perdoni, io non volevo magnificarmi, non è colpa mia se grazie ad un inutile orpello come uno smartphone sono diventato il presidente più popolare del mondo, non posso immaginare cosa potrei diventare se acquistassi Telecap. Vabbè, ma non è questo il punto. E comunque la risposta è no. E no? A cosa? A Sanremo come ospite non ci vado. Ma chi mi era chiesto? O lo presento con Fiorello, ma come ospite se lo scordo.